Ciao, in questo video siamo divise in 5 gruppi da 3 e giochiamo a strega comanda color, mi veniamo 1, 2, 3 stella, a strega comanda color, va bene? Si parte sempre da sedute, dovete rimanere unite, se il trio si scioglie avete perso, l'ultima che arriva al colore ha perso, va bene? Ok, facciamo 5 colori e vediamo chi ne vince di più, strega comanda color, giallo! Michi, Greta e Nora, penalità, siete le ultime, ok, torniamo in pedana? Strega comanda color, marrone! Ok? Siete le ultime voi? Penalità? Ma ragazzi, ma la trave non vi piaceva? La trave! Ok, torniamo! Strega comanda color, bianco! Brava! Penalità! Pronte sedute? Come siamo con i punti? Uno, uno, uno e uno, ok! Strega comanda color, verde scuro, scuro! Penalità! Loro, il giubbotto, maglia, bene, 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 ok, torniamo in riga! Strega comanda color, strega comanda color, Viola! Ah, spiuta! Il trio di Deborah ha un punto! Un punto di penalità! Pronte? Sono cinque? Sono tre punti, giusti! Sono cinque? Chi è che è senza penalità? Bravi! Chi è senza penalità? Chi è senza penalità? Chi è senza penalità? Chi è senza penalità? Chi è senza penalità?